Un libro che pone il nostro paese, la nostra regione a fare i conti con il dramma dell'immigrazione, in questo caso una tragedia vera e propria, in un paese che ha 150 anni di immigrazione, che risponde alle emergenze ma non riesce a gestire, a fronteggiare fenomeni così grandi. È una riflessione quanto mai necessaria. Sulle tragedie dell'immigrazione, il 27 febbraio a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo Diretto, organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, è stato presentato il volume Il Naufragio di Alessandro Leogrande. Sono intervenuti con l'autore Francesco Cefaloni, Iris Piemonte, Livio Pepino, direttore di Questione Giustizia e Alberto Cavaglion, Università di Firenze. Il Naufragio prende in esame la tragedia avvenuta il 28 marzo 1996. quando una motovedetta albanese è carica di immigrati dopo uno scontro navale con una corvetta della marina militare italiana Coloapicco nel canale d'Otranto.